Ciao ragazzi! So che è abbastanza difficile prendermi sul serio visto il mio aspetto ma sono totalmente struccata e dovevo usare per forza un filtro e gli unici filtri che conosco sono quelli di Snapchat quindi registro questo breve video per aggiornarvi sulle ultime novità riguardo al mio profilo Instagram maccherato allora mi è stato detto dalla polizia postale che bastano 11 segnalazioni o più quindi minimo 11 perché Instagram automaticamente blocchi il profilo quindi se non l'avete ancora fatto vi chiedo gentilmente se potete di segnalare il mio profilo in modo che appunto venga chiuso diciamo non chiuso perché mi hanno detto che non si può chiudere però viene bloccato e perlomeno non questa persona non continuerà a mandare messaggi a nome mio quindi vi chiedo questa gentilezza se potete vi ringrazio infinitamente grazie 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 a tutti segnalate 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 grazie grazie grazie